Questa è il bambino, sta a posto? Mondo Fitness 2014, oggi 14 settembre 2014, giorno di chiasura dopo tre mesi intensi alla grande dove abbiamo il grandissimo Aestral delle Vive, Michele Spanò che ha fatto da protagonista queste state. Beh, diciamo che è stata una bellissima estate con almeno quattro eventi molto importanti. Chiudiamo con una serata bianca e nero, anni 50, sono felicissimo perché abbiamo fatto quattro eventi molto importanti come fiori e farfalle e tricolore, per cui poi partiremo con la stagione di ottobre con altri eventi in altri posti e proseguiremo con le nostre mega acconciature. Bellissime, hai acconciato le ragazze sempre fantasticamente e vogliamo anche ricordare i nomi di queste bellissime ragazze? Come no, qui abbiamo Irina, Ilaria, Irina, Isabella, Arianna Ecco, loro che insomma diciamo ormai per te sono delle opere, come possiamo definirle? Guardi, intanto devo ringraziare non solo le modelle perché mi hanno sempre seguito questa estate ma devo soprattutto ringraziare fortemente il mio gruppo che veramente ha lavorato bene tanto e mi ha dato grande soddisfazione. Ecco, un grande staff e vedo qui intorno anche qualcuno del tuo gruppo che facciamo venire, facciamo loro di solito stanno dietro però è giusto pure ogni tanto portarli avanti Portarli avanti e vabbè Emilio Emilio, buonasera Emilio Biondi è in questo momento che sta qui ma abbiamo anche Luca Barile che diciamo è l'artefice non solo delle acconciature parte delle acconciature ma anche degli abiti poi abbiamo anche Anna Brunella, sono diciamo la parte importante della mia azienda dove creiamo delle acconciature studiamo un po' tutto quello che succede, gli diamo un programma, facciamo, diamo come posso dire un'idea di quello che è la sfilata che dobbiamo fare per cui teniamo conto dall'acconciatura, il trucco, i capelli tutto insieme, facciamo un grande studio. Certo, volevo ringraziare Luca Barile, Anna Brunella Ecco, venite qui, ecco che loro stanno sempre dietro che loro stanno sempre dietro e devono essere insomma in vista perché è molto importante loro come dicevo prima sono la parte importante del marchio Spano dove creiamo insieme gli eventi li ragioniamo prima, li studiamo prima e poi ecco qui le nostre acconciature, i nostri abiti Ecco, e poi quest'anno dicevo c'è stata oltre tutto questo grande successo, c'è stata tantissima solidarietà oltre il glemur eccetera. Beh sì, con Lucilla, con anche Andrea De Angelis abbiamo anche praticamente dato solidarietà perché ci vuole, perché è giusto che ci sia. Comunque io nel mio arco del lavoro comunque inserisco anche serate dedicate alla beneficenza, a tutto quello che c'era intorno perché è anche giusto farlo. E questo ti fa lote e vogliamo dare qualche appuntamento prossimo, a breve? Il prossimo appuntamento è a Avezzano, diciamo che è una serata speciale dedicata alla sposa a Celano, praticamente il 21 settembre. Qui abbiamo una sposa, abbiamo un abito da sposa? Certo, diciamo che non è proprio un abito da sposa ma abbiamo simulato questo questo è un abito fatto questo pomeriggio da Luca Barile. Perfetto, ecco da Luca Barile, allora noi da Mondo Fitness salutiamo tutti quanti e invitiamo a tutti i due prossimi, a tutti gli eventi di Mondo Fitness e diamo un saluto a tutti. Grazie, grazie. Ciao. Alla prossima estate. Alla prossima estate. Alla prossima estate.